Siamo qui a San Martino con Inga Cucerengo e Marco Vercellino, due imprenditori locali della zona che hanno un'attività artigianale e che ci vogliono raccontare quello che è il loro progetto. Ciao, grazie per in tutto di essere qua, ci fa molto piacere questa cosa. Ormai da sette anni, sette anni e mezzo, siamo alla Modaveia, un progetto che è partito quasi per scherzo, un gioco appunto sette anni e mezzo fa, che ci ha portato ad avere grosse soddisfazioni nel campo della gelateria artigianale. La Modaveia all'inizio è stato anche deriso un po' da tanti perché quando ho detto ah vorrei fare una gelateria e dargli il nome alla Modaveia, mi diceva ma che nome è, ma perché, per come. L'ho scelto perché? Perché con Inga si è voluto appunto arrivare a ricreare quello che era il gelato come veniva fatto una volta. Il gelato come hanno mangiato i nostri nonni, i nostri genitori, un gelato come veniva fatto magari 50 anni fa. Un latte fresco, panna fresca, ingredienti di prima categoria, di qualità, che può sembrare una cosa scontata ma che purtroppo al giorno d'oggi non è più tanto scontata. Il latte fresco non viene usato da tanti, comunque si possono usare anche prodotti a lunga conservazione. La panna fresca nemmeno perché non è così semplice da reperire, soprattutto oramai è diventato un prodotto caro. Però ci tenevo tantissimo ad avere un prodotto diverso dagli altri, ad avere il gelato, non un gelato qualsiasi. Volevo che fosse il gelato di una volta. Allora ecco che è nato alla Modaveia. Poringa è andata a studiare. E vendere come una volta, come nonni, carrettino, con pochi gusti. Infatti. Vabbè, il nostro è un po' modernizzato, con più gusti, però sempre bicicletta, una volta. Siamo partiti dal porter, che vedete qui dietro. È un piaggio porter trasformato in gelateria itinerante, che tanti probabilmente hanno già visto in giro. Siamo passati a un carretto a mano, che non ho qui perché l'abbiamo lasciato a casa. Al triciclo, come una volta, al triciclo che ci permette comunque di girare e di portarlo in giro. È piaciuto tantissimo. È l'ultimo arrivato, che uscirà in questa stagione qui. È questo vecchio Fiat, che abbiamo riscoperto in Olanda. Perché ce l'aveva un vecchio gelatiero in Olanda che è andato in pensione. E per puro caso l'ho trovato su internet. Siamo partiti a Natale, prima del Covid, tra l'altro. Siamo andati a vederlo e ci siamo innamorati. E in pieno Covid è arrivato giù in Italia. In quel mezzo lì ce ne sono tre in tutta Europa, perché era stato un mezzo particolare che aveva fatto una ditta londinese. Comprando tre furgoni italiani dei carabinieri e poi trasformati in gelateria itinerante. Uno ce l'abbiamo noi, uno ce l'ha un gelatiero in Germania e uno in un museo a Londra. Quindi è proprio un pezzo raro a cui ci tenevo particolarmente e siamo riusciti ad averlo. Questa era un po' la filosofia di Alla Moda Veia. Avere di nuovo un prodotto, creare un prodotto come una volta. Perché comunque adesso siamo tutti a rincorrere sempre il futuro, a cercare di arrivare sempre più avanti e ci siamo dimenticati quello che ci ha fatto arrivare fino a qui. Ecco perché è nato appunto questo gelato, è nato il gelato alla Moda Veia. Poi ovviamente non è che ci sia improvvisati, ha dovuto studiare, ha studiato alla Cartigiani, all'Università del Gelato. Tutti gli anni viene un maestro per rivedere le ricette insieme, per renderle sempre più naturali possibili. per aggiornarsi. Abbiamo investito tanto sui macchinari, perché comunque anche quello ti porta a creare un prodotto sempre di eccellenza. Improvvisarsi, soprattutto in questo campo, non è così semplice e non è fattibile. Anche perché stai dando al cliente un prodotto e vuoi dargli sempre il meglio. Stiamo cercando di dargli sempre il meglio e lo faremo sempre, anche in un momento di difficoltà come adesso, perché comunque ci sono stati aumenti, reperire le materie prima è sempre più difficile. Però non ci abbasseremo mai al rivedere la qualità di scapito della soddisfazione dei nostri gelati. Questa è stata un po' la filosofia che ci ha portato fino ad oggi. Poi in questi anni, per fortuna, è riuscita a vincere anche un premio molto importante a livello di gelateria nazionale. È arrivata prima in Piemonte per quanto riguarda... Si chiamava gelato World Tour. Gelato World Tour in Piemonte si è classificata prima alla Modaveia. È arrivata terza a livello italiano. Con un gusto di gelato era fatto con ricotta, melata di miele e noci. La melata di miele, tra l'altro, è presa da produttori artigianali canavesani. La ricotta ha anche noci nostrane, di cui le classiche noci che mangiavano già i nostri nonni. Pian piano si è voluti e siamo stati conosciuti. C'è gente che arriva da Torino per assaggiare il nostro gelato, anche se non abbiamo una gelateria, perché il nostro è un laboratorio di produzione spaccio. Il nostro lavoro è itinerante, proprio come una volta alla Modaveia. Giriamo per le sagre, le feste. Purtroppo negli ultimi due anni non c'è più stata possibilità di vedere tante feste. Giriamo in mercatini. In Val d'Aosta ci chiamano spesso per andare in vari mercati artigianali con il nostro prodotto. Ci piace molto fare matrimoni e portare a bicicletta. Ci sono matrimoni che ci chiedono le biciclette, feste private anche. Adesso ho anche il mezzo nuovo, sempre di più perché iniziano a richiedere. Voriamo tanto col FAI, a Masino ovviamente qui vicino e anche in mete più lontane. E per fortuna abbiamo tanti clienti che ci vogliono bene. Magari è per il gelato che è sicuramente buono, però spero che sia anche per questa filosofia che abbiamo cercato di trasmettere di nuovo loro. E siamo qui su un altro mezzo, sempre di Marco Vercellino e di Inga e volevamo capire di più su questo mezzo. So che ci sono delle curiosità dito questo mezzo. Allora, è un po' che cercavo un mezzo storico, soprattutto della Fiat. Perché? Perché alla Modaveia non potevo avere un mezzo moderno come tanti altri che c'erano in giro. Volevo avere un mezzo della Fiat vecchio e una sera girando su internet trovo appunto questo furcone qua. Lo trovo in Olanda, era di un gelatiere olandese che andava in pensione e che aveva sempre venduto in modo itinerante appunto il gelato in Olanda. Lo trovo, era il dicembre del 2019. Gli scrivo, mi risponde e mi dice Ah, mi fa piacere che mi chiami dall'Italia perché questo mezzo italiano mi manda delle foto e non ci piacciono. Noi diciamo, ci guardiamo in faccia e io e Inga diciamo Vabbè, partiamo e andiamo a vedere. Partiamo tra Natale e Capodanno 2019, andiamo su in Olanda a vedere al mezzo. Arriviamo su, ce ne siamo poi innamorati, era bellissimo, proprio molto molto bello. Quello che cercavo da tempo, un mezzo Fiat, quindi italiano, storico, già trasformato in gelateria. Trasformato in gelateria tra l'altro al più grosso customizzatore mondiale di furgoni per gelato, Whitby Morrison, tedesca, Londra. E allora iniziamo a trattare con lui, quanto vuoi, quanto non vuoi, che puoi trovare un accordo su un prezzo, su una cosa del genere, è stato difficilissimo perché è un prezzo più unico che raro. Troviamo finalmente l'accordo. Torno in Italia, mi dice, pensaci, però sappi che ho delle altre richieste. Anche perché c'erano, meglio, ci sono tre mezzi in tutta Europa, come dicevamo prima, come questo furgone qua. Uno ce l'aveva lui, uno in gelatiera in Germania e uno in un museo a Londra, il museo dei mezzi della Whitby Morrison. Torno in Italia e iniziamo a ragionare su quello che poteva essere o non poteva essere. Lo richiamo ai primi di gennaio e dico, ok, guarda, il mezzo mi piace, lo prendo. Allora lui è felicissimo, mi dice, di nuovo ti ripeto, sono contento che torna in Italia questo mezzo, mezzo nato in Italia, italiano, trasformato a Londra. E ce lo porta giù, ce lo porta giù alla fine di gennaio 2020. Marzo 2020 scatta il Covid. Scatta il Covid, io mi ritrovo con questo mezzo spettacolare in Italia, senza targhe perché era targato olandese, quindi le avevo dovute togliere, e per ben un anno e tre mesi non ho potuto immatricolarlo perché erano chiuse le immatricolazioni, erano chiusi tutti i centri per fare le varie cartofie che si dovevano fare per renderlo utilizzabile, erano tutti a casa negli uffici statali e ci troviamo solo nella stagione a cui stiamo approcciando, nel 2022, a poterlo finalmente utilizzare. Però sono convinto che appena usciremo fuori con questo mezzo qua si farà la differenza, era un sogno che avevo, che avevamo e finalmente si è realizzato anche questo qua. E dietro a questo mezzo vecchio rimane comunque sempre la qualità del gelato alla moda veia. Non un gelato qualsiasi, ma il gelato. La cosa importante poi qual è stata anche? Perché è nato anche questo progetto del gelato? Quando è nato Matteo, il primo bambino, Inga è rimasto a casa dal lavoro che stava facendo, e allora ci siamo fuori dal punto al cervello per capire cosa si poteva fare. E mi piaceva l'idea della gelateria. Ho visto anche delle gelaterie in zona che stavano vendendo. Però a un certo punto mi sono detto, cavolo, devo spettare, devo pregare io che la gente entri nel mio locale per venire a acquistare il mio gelato. Allora di lì ho detto, una volta andavano dove c'era la gente, con i carretti proprio, e allora mi sono detto, proviamo a ripercorrere quella strada. Perché comunque, alla fine se è stato fatto prima non è mai sbagliato. C'è sempre qualcosa di buono e la storia è ciclica. E per fortuna ci ha dato ragione questo. Ci ha dato ragione, soprattutto in questo momento particolare, in cui non si può tanto circolare liberamente, e allora riusciamo noi ad andare dove c'è la gente. Mi voglio raccontare anche una storia particolare che mi è successa durante il lockdown dello scorso anno. Mi son trovato a portare in giro gelato, perché facevamo le consegne a domicilio, era l'unico modo per lavorare. E una volta mi è successo, sono arrivato a Fabria, a un amico che mi ha chiesto del gelato. Sua sorella stava partorendo. Lui non poteva portare il regalo per il bambino alla sorella, e stava a salassa. Quindi nemmeno lontani. Mi ha detto, me lo fa un piacere. Mi ha detto, sì, so che mia sorella ti ha ordinato del gelato. Sì, devo portare. Mi fa, guarda, io sarò il padrino del bambino. Qui c'è il regalo, glielo puoi portare. E glielo ho portato. È stato molto bello. Molto bello e toccante, perché comunque, in un momento in cui tutti erano chiusi, nessuno poteva uscire, con una vaschetta di gelato riuscivamo anche a portare un po' di felicità a tanta gente. E un po' di normalità. E quello è stato bello, ritornare indietro alla Modaveia come una volta. Grazie.